Anticamera di Einaudi. Si aspetta Pella che declinerà l'incarico, appellandosi ai superiori interessi del paese e all'esigenza di rafforzare l'unità del suo partito. Per questo ho pregato di concedermi la possibilità di rinunciare all'incarico. Sono le 11 e un quarto. Mezz'ora dopo, convocato da Einaudi, giunge al Quirinale l'onorevole Fanfani, capo del gruppo di iniziativa democratica. Uscito dallo studio del Presidente, egli dichiara Il signor Presidente mi ha invitato ad assumere l'incarico della formazione del nuovo governo, secondo la formula tradizionale, accettato, con riserva. Inizierà i lavori per formare il governo. L'Italia gli augura una pronta conclusione.